Direttamente dal film evento arrivano i nuovi zaini scuola Spider-Man, gli unici con la super pattina. Azione e reazione, con gli occhi in materiale lenticolare. Ma non basta! Per combattere il male ci vogliono i troll e i più giusti. Guarda che versioni! E gli astucci ai diari? Potentissimi! Cosa manca per entrare in azione? Solo con lo zaino scuola Spider-Man Homecoming. Hai la maschera di Spider-Man. Non trattarmi come un ragazzino. Posso dimostrare quanto valgo. Zaini scuola Spider-Man Homecoming. Gli unici con la super pattina.